Mi è piaciuto dei ragazzi il carattere, gli avevo detto che era una partita in cui avremmo sofferto perché conosco questa squadra, il Renate l'abbiamo vista, è una squadra che ha due anni che gioca insieme, gioca a memoria fa un calcio interessante, quindi con ritmo e questo ci ha messo a dura prova abbiamo cercato di rimanere compatti, equilibrati, mi è piaciuto tantissimo lo spirito di sacrificio dei due esterni anche se troppo spesso siamo stati costretti a fargli indietreggiare, sia Gianluca che Matteo alcune cosettine positive però lo sapete c'è tanto da lavorare quindi ben venga questo passaggio del turno perché comunque è importante, ci permette di fare un'altra partita vera in avvicimento al campionato e quindi questa è la cosa più importante Questa squadra lo sapete anche per problemi di organico incompleto, non siamo riusciti a fare partite importanti quindi è la prima vera partita importante, oltre ai 45 minuti fatti col Teramo che comunque è stata una partita anche quella contro una squadra che ti ha fatto giocare comunque su ritmi alti quindi in questo momento di allenamenti addosso ne abbiamo anche tanti e quindi ben venga un match che ci permette comunque di misurarci ancora con una squadra importante e ci permette di trovare anche condizione in un test difficile perché magari nel nostro precampionato non abbiamo avuto molti test provanti dal punto di vista anche del ritmo dell'aggressività, quindi sono contento di essere andato avanti